Nuovi risvolti sul caso della Sea-Watch, la nave con a bordo 47 migranti a largo di Siracusa. Adesso a parlare il Premier Giuseppe Conte, che parla della distribuzione dei migranti in altri 5 paesi. Nien che la Corte Europea per i diritti dell'uomo, cui si erano rivolti, la ONG ed uno dei 47 soccorsi, ha invitato l'Italia a far scendere in auvraghi. È stato il Premier Conte, al vertice Med 7 di Cipro, a comunicare l'uscita dell'impasse. Germania, Francia, Portogallo, Romani e Malta si sono detti pronti a prendere una quota degli ospiti della Sea-Watch. La Prefettura intanto ha disposto proprio l'invio di un bagno chimico. Per i minori non accompagnati ha sollecitato il Governo a garantire anche una tutela legale adeguata, ma non ha accolto la richiesta di ordinare all'Italia lo sbarco dei migranti. Al centro delle nostre riflessioni c'è stata la posizione sulla migrazione, una posizione che evidentemente ci sfida, è una sfida cruciale per l'Europa, l'ho detto più volte l'Europa rischia di implodere, perché da troppo tempo si trascina incapace di trovare una soluzione condivisa, una soluzione che sia in linea con i valori che predichiamo. Un approccio europeo incensato sulla solidarietà, sulla responsabilità condivisa è stato di recente acclarato, affermato nelle conclusioni dello scorso giugno del Consiglio europeo. Ritengo quelle conclusioni una svolta, perché per la prima volta di fronte a situazioni di emergenza è un problema che evidentemente è difficile da risolvere. Abbiamo affermato i principi di una responsabilità condivisa, abbiamo affermato il criterio per cui chi sbarca in un paese europeo che affaccia sul Mediterraneo sbarca in Europa, però è anche vero che stentiamo da allora a tradurre quei principi e quegli impegni in fatti concreti. Questa è una incapacità in questo momento che stiamo tutti denunciando e ho sollecitato i miei colleghi omologhi a cercare di, noi che siamo del sud Europa, che possiamo esprimere una sensibilità comune, a trovare gli strumenti, la forza, e a usare per convergere su fatti concreti e quindi sull'elaborazione di un meccanismo condiviso, anche perché l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiama il principio di solidarietà, il principio di equa ripartizione delle responsabilità. Se poi questi principi non li riusciamo a tradurre in azioni concrete, diventano mere declamazioni e non ci dobbiamo sorprendere se gli stessi popoli europei, i nostri cittadini, si disaffezionano rispetto alle istituzioni europee.